Un sigaro conosciuto a livello nazionale non solo, realizzato grazie al tabacco che si produce a Ponte Corvo. Stiamo parlando del sigaro toscano-ponte corvese. Asseminare, raccogliere ed essiccare il tabacco è un'azienda della città fluviale, diretta da Silvio del Signore. Un'azienda a conduzione familiare con otto dipendenti. Questa azienda nasce già, parliamo degli anni 30-35, e niente, produciamo tabacco Kendaki che va per il sigaro ponte corvese toscano. Come funziona tutto il processo, dalla semina alla raccolta all'essiccazione fino al prodotto finale? La semina parte già a marzo, seminiamo la nuova tecnica della seminiera, poi a maggio parte il trapiando in pieno campo e dal trapiando, man mano che esiste la sarchiatura, la foglia cresce, si arriva alla cimatura. La cimatura, dopo più o meno una mesata, si va alla raccolta del campo. Per l'essiccazione partiamo da metà agosto e arriviamo alla fine, più o meno fine ottobre. Una volta che il tabacco ponte corvese è essiccato, va dove? All'MST di Foiano. Ma un tabacco d'eccellenza necessita ovviamente di tanta acqua, ed è a qualora il contributo fondamentale del Consorzio di Bonifica Vale dell'Iri in tal senso. Il Consorzio di Bonifica dà un contributo, io penso, molto importante, perché noi distribuiamo l'acqua sui campi, e la distribuiamo, devo dire, in questa zona anche dell'acqua di qualità. Con Silvio abbiamo comunque in questi mesi portato avanti determinate tematiche affinché poteva essere migliorato il nostro settore irriguo e infatti siamo riusciti a fornire una quantità di acqua e una giusta quantità di acqua anche di qualità superiore per poter fare poi questo prodotto. Silvio Del Signore è uno dei tanti giovani impegnati in un settore come quello agricolo che può rappresentare un'occasione di rilancio per tutto il territorio. Del Signore Silvio ha usufruito anche di uno strumento importantissimo, quale il PSR, che praticamente dà modo a giovani imprenditori come lui di sviluppare le proprie idee. Poi sta a noi, diciamo, tra virgolette, brulocrati, sviluppare le idee dell'imprenditore. L'esempio di questa azienda è un vanto dunque per tutta la provincia di Frosinone. Questa è una dimostrazione concreta che nella nostra provincia e nella nostra regione ci sono imprenditori di grande qualità. Questo chiaramente viene fuori da un grande gioco di squadra, dall'efficienza della Col di Retti, dall'efficienza del consorzio di bonifica che eroga i servizi, ma soprattutto dai tanti giovani che credono in questo mestiere.